ciao amici di napolità che dire passeggiata del napoli di antonio conte al maradona 5 a 0 ma tantissime informazioni in questa gara sapevate che ero proprio titubante sul turnover perché avevo visto già qualche piccolo problemino nelle prime partite proprio di sincronismi ma raga il napoli è sceso in campo con un atteggiamento straordinario perché è importante andare a vedere questo è ovvio che la partita si sblocca presto perché c'è c'è super gong un giocatore totale che ha praticamente preso i primi 15 20 minuti ed è diventato il protagonista era ovunque però dobbiamo dire raga che l'atteggiamento è stato perfetto tutti sul pezzo e qui chapeau come al solito ad antonio conte raga che mi sta convincendo ad ogni partita voi giustamente potete dire ma cosa doveva convincerti raga però io ecco quando vado ad analizzare gli allenatori poi una volta che ce li abbiamo qui io divento sempre cauto perché voglio poi vedere le cose sul campo raga ma questa prestazione ci fa capire come stanno tutti sul pezzo al di là del palermo perché a me fa sempre piacere sottolineare una cosa queste partite se non le fai con serietà e se non sei sul pezzo e se non ci metti intensità voglia le perdi contro chiunque infatti sul 2 a 0 il palermo qualche azione positiva l'ha fatta ma il napoli è stato sempre sul pezzo intensità incredibile di tutti quanti simeone massimo sforzo raspadori massimo sforzo la cosa più bella è vedere quest'interscambio proprio tra ngong e neres che veramente è stato un qualcosa di bellissimo ma zocchi che durante tutta la partita ha fatto qualche erroruccio ma ha fatto una prestazione di un'intensità importantissima e questo è quello che ci interessa spinazzola che sembrava andare il doppio degli avversari è stato lui all'inizio a determinare proprio l'intensità e la doppia fase perché era lui che determinava anche l'altezza della linea era sempre lui quello propositivo e poi raga l'esperimento più bello a mio parere è riuscito ma per una per una questione di posizionamenti è stato lo botca gilmour perché ovviamente antonio conte ha pensato di mantenere lo botca leggermente più basso quindi ha utilizzato i due play invece in di orizzontale in verticale tenendo lo botca a schermo tra virgolette tra i due difensori one jesus e rafa marin quando si andava a costruire e gilmour leggermente un po più avanti quindi proprio in verticale perché prima di tutto billy è uno che ricerca immediatamente il passaggio in verticale avendo quest'interscambio avanti tra ngong e neres era uno che poteva innescare la manovra poi tenevamo sempre i due terzini perché il napoli di base ha giocato 4 2 3 1 e tenevi sempre però i due terzini fissati alti e in ampia spinazzola e mazzocchi quindi molto bene l'interscambio e molto bene anche la sintonia tra questi due calciatori che ovviamente non hanno dovuto fare una fase difensiva feroce però la riaggressione è stata importante il napoli ha fatto due cose importanti la pressione più che il pressing perché non era individuale ma una pressione di reparto e soprattutto è stato molto attento alla densità perché come avete visto si muovevano sempre in blocco prestazione corretta anche di one jesus che oggi ha fatto il maestro di rafa marin e poi andiamo a parlare un po di rafa perché io non vorrei assolutamente che qualcuno bocciasse immediatamente questo ragazzo che per come la vedo io ha fatto una partita corretta a livello di posizionamento giocava in una posizione che lui non spesso ad opera perché nell'alaves lui gioca a sinistra però secondo me si è mosso bene però ha fatto qualche errore diciamo che quello che ci ha detto conte vi ricordate quando vi dico che conte dice la verità ha qualche problemino sulla gestione e soprattutto sulla costruzione ovviamente non è poco perché se vuoi inserire in una squadra che deve competere per le zone alte della classifica è questo il motivo per cui in questo momento lui non è ancora nel giro dei titolari però io l'ho visto bene ben posizionato qualche intervento anche importante nel primo tempo legge un bel passaggio quindi arriva ad anticipare poi fa un errore clamoroso che si mette di spalle al pallone quindi diciamo al 50 per cento la prestazione di rafa marin però non è una bocciatura perché era la prima giocata da lui da titolare l'ho visto anche un po teso abbastanza teso nel secondo tempo evidentissimo quando lui stava andando a prendere un pallone si è girato proprio a guardare antonio conte quindi diamo tempo al ragazzo per il resto one jesus che fa anche gol e poi andiamo a parlare un attimo dei fantasisti in gong è benissimo raga gong è benissimo mi è piaciuto tanto un po' non educatissimo nella doppia fase infatti conte si è arrabbiato un po' tanto sia con neres sia con con lui che non tornavano spesso però ci sta presi dall'eforia sul 2 a 0 qualche volta non sono tornati neres che ve lo dico a fare al venticinquesimo io sono completamente svenuto e sono rimasto lì a quella giocata brasiliana che sotto a una curva è un po' tutto quello che noi tifosi vorremmo quindi assolutamente top quindi ci sono stati i due gol di in gong e poi il gol di one jesus che fa una partita buona qualche erroruccio anche lui ma one jesus ormai lo abbiamo catalogato come ultimo difensore attendendo che però raffa rientri un po' nel ritmo cara one jesus fa il gol di testa il terzo gol e poi c'è il ciolito simone che ci mette tantissima voglia tantissima intensità però trova poche volte il pallone trova poche volte la giocata pulita ma la stessa cosa vale per raspatori questo posizionamento poi nel 4 2 3 1 che porta raspatori proprio quasi come seconda punta si mette quasi a fianco addirittura un 4 2 4 nella fase offensiva oppure come sapete già un 3 2 4 1 che porta tutti questi giocatori offensivi al ridosso della prima punta quindi bene però non benissimo come prestazioni nel secondo tempo poi segna neres su una ottima pressione anzi lì è pressing di simeone sul portatore di palla quindi c'è il gol di neres raga e poi entra lui entra il giocatore raga fantà il giocatore che quest'anno secondo me ci darà tantissime soddisfazioni scott mc tomini che fa un gol straordinario la prima azione giocata una palla buonissima in profondità per lukaku get back parla indietro scott mc tomini che segna segna con una semplicità disarmante va sotto la curva esulta e si bacia lo stemma sapete come ovviamente non è che noi ci leghiamo tanto a questi gesti almeno io però è bello a vedere il gol poi della chiusura totale della partita un ottimo un ottimo giocatore ragazzi questo veramente ci darà tantissime tantissime soddisfazioni i cambi sono naturali entra zerbin entra anghissà che va a prendere il posto di lobot la partita come al solito totale anche per lobot che oggi ha fatto il capitano poi dopo mangiare entra anghissà entra qua raschella per fare qualche minuto entra lukaku che purtroppo non riesce a trovare il gol ma trova l'assist scott poi dopo vuole chiudere la partita con una traversa spaccandola completamente in un'altra transizione positiva il napoli qualche volta non precisissimo nell'assorbimento difensivo ma ci sta perché poi la linea un pochino era non proprio sicurissima ma mettendo in conto che erano juan jesus e rafa marin raga alla fine bene però io non guarderei assolutamente il risultato robo ante il napoli passa incontrerà la lazio ma ci sono tante cose belle che andremo ad esaminare con calma si passa il turno complimenti ad antonio conte io veramente ero preoccupato a tutto questo turn over ma questa partita ci fa capire che il mister ha tutti tra le mani a tutti sul pezzo neres che si presenta un attimo con quattro assist e un gol quindi stiamo parlando di un giocatore totale che man mano si prenderà il suo spazio comunque raga veramente complimenti a tutti complimenti al napoli si va avanti in coppa italia che era importantissimo ma tantissimi complimenti ad antonio conte che dimostra ad ogni partita che è un top allenatore ragazzi io vi saluto tra pochissimo non so se questo video uscirà prima o durante la live però tra poco inizia la live perché alle 23 e 30 parleremo ovviamente di napoli palermo un bacio e un abbraccio da sasa e sempre forza napoli ciao 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 Grazie a tutti